Le skin, quanto sono belle le skin che usciranno, mamma mia! In questo video mi credo che vi andrò a mostrare tutte le novità introdotte della nuova patch tra cui il nuovo mezzo, i nuovi tornei e anche le skin che usciranno nel corso di questa settimana Anzi, inizierei proprio dalle skin perché sono fantastiche, fan-tastiche cacchio Le state ovviamente vedendo e, sì, per fantastiche intendo due in particolare C'è quelle di Alon, quelle più cattive e aggressive che a me personalmente piacciono tantissimo Abbiamo in alto a sinistra una tipa hamburgerosa che però per prendere bisogna vedere il lato B ovviamente Poi abbiamo un tipo cinese alla Omae Wa Shindeiru NANI! Che non credo prenderò perché non mi piace più di tanto Anche se invece il suo piccone mi piace un bel po' E poi abbiamo le due skin tipo Madonna quanto sono belle! Ci sta sia la femmina che il maschio Ma soprattutto il maschio mi piace tantissimo E sicuramente credo che me lo prenderò Sperando che non siano leggendari e così almeno 500 V-Bucks me li trattengo I picconi, come detto, mi piace quello del tipo cinese E anche quello a tema ragno è molto figo Il primo, quello della tipa hamburgerosa, non mi piace più di tanto Poi abbiamo il ragno del tablano Quanto è bello il ragno del tablano, mamma mia! Per quanto riguarda gli zaini, tanto verranno dati automaticamente con le skin Quindi è inutile anche solo parlarne Sono entrato in game per farvi vedere anche la nuova modalità eventi Infatti ragazzi adesso ci saranno i tornei aperti a tutti Il torneo alfa questo qui è dal 16 al 21 ottobre Poi abbiamo ogni venerdì questo qui, il Fortnite del venerdì sera Torneo beta 23-25 ottobre, 27-31 poi l'altro 28 ottobre, primo novembre Ragazzi come funzionano questi tornei? Il premio dovrebbe essere una spilla dorata Solo che ragazzi non so se questa spilla dorata vi darà anche dei V-Bucks o delle altre cose Quindi non so dirvelo al momento Partecipa al primo torneo di gioco suddiviso in più giorni di competizione E ottiene una spilla luccicante Ragazzi non so questa spilla luccicante Se poi vi darà anche altri premi Oltre all'estetica della spilla luccicante Comunque sia bisogna fare più punti rispetto agli avversari in top partite Per avere l'indicatore quindi la spilla luccicante Ci vorranno almeno 20 punti Con 3 eliminazioni quindi ogni 3 eliminazioni avrete un punto 5 eliminazioni vi darà un altro punto 7 eliminazioni un altro punto Se entrate nella top 10 avrete un punto Se raggiungete i primi 3 avete un altro punto aggiuntivo E la vittoria reale sarà un altro punto aggiuntivo Quindi una vittoria reale con almeno 7 eliminazioni vi darà ben 6 punti Con 20 punti in totale in una sessione avrete appunto la spilla luccicante Vabbè questo è il negozio oggetti di oggi E già che ci sono mi compro il orsacchiotto Perché non ce l'avevo e lo volevo da tantissimo tempo Attenzione perché il funzionamento dei tornei è a punti Cioè significa che il primo giorno partirete tutti quanti allo stesso livello Quindi tutti quanti con 0 punti Se voi per esempio totalizzerete 20 punti il primo giorno Il secondo giorno andrete contro altri player che hanno totalizzato a loro volta 20 punti Quindi sarete sempre contro player alla vostra pari O perlomeno pari parità di punti Al quinto giorno ovviamente troverete tutti quanti player con il vostro stesso numero di punti Quindi sarà sempre più difficile man mano che andate avanti Ok posso rispondermi alla domanda che mi ero fatto da solo prima Infatti adesso non serve a niente la spilla luccicante Ma dopo infatti questo è il primo torneo e di pratica c'è anche scritto Da in futuro l'ottenimento di una spilla potrà consentirti di passare al turno successivo di un torneo O di vincere premi Quindi ragazzi semplicemente ottenendo quei 20 punti potrete continuare il torneo E alla fine il torneo potrete vincere dei premi Quindi sì ci saranno dei premi offerti quindi dalla Epic stessa Ma quanto è bello il nuovo veicolo ragazzi È una specie di quad ovviamente E al posto della TK che ha bisogno di derapare per caricare appunto la spinta Qui semplicemente camminando si avrà una barretta che si ricarica E appunto si potrà utilizzare la spinta quando si vuole Ragazzi una figata pazzesca Il paraurti come volete chiamarlo Il davanti di questo quad praticamente Se andrà contro le strutture romperà le strutture Se invece andrà contro i player li scaraventerà in area Quindi non farà direttamente del danno Ma li butterà in area E ovviamente buttandoli in area Saprete anche voi meglio di me Che gli avversari subiranno del danno Quindi molto molto figo Soprattutto il fatto che più si cammina Più si ricarica la barra di spinta E quando la barra di spinta è totalmente piena Si potrà utilizzare una spinta molto molto forte Un turbo, un boost Non so come volete chiamarlo Insomma sa di fatto che è figo Per quanto riguarda le altre migliorie di questa nuova patch Ve ne dico solamente alcune Sia quelle più importanti Le altre vi invito a leggerle da voi Quindi vi lascio il link delle note patch in descrizione E' stato risolto un problema Che non permetteva il posizionamento delle trappole In alcuni punti dove c'erano degli oggetti Per esempio in casa il comodino Bloccava il posizionamento della trappola Perché era un oggetto piccolo Che appunto non veniva distrutto dalla trappola E adesso invece si può mettere anche lì Hanno aumentato le prestazioni di PS4, Xbox e Switch Sì sempre, ogni volta lo dicono Che aumentano le prestazioni In realtà non è vero mai Cioè magari è anche vero Però è così impercettibile il miglioramento Che nessuno frega una beata mazza Hanno un po' cambiato La modalità tempo domina la discoteca Infatti adesso ci sarà meno possibilità di trovare delle band Hanno tolto tutte quante le armi comuni Quindi adesso molti più danni per tutti i player E in pratica hanno spostato un pochettino le piste da ballo E hanno spostato un pochettino La possibilità di spawnare E dove spawnare Cioè insomma Anziché spawnare proprio sempre nello stesso punto Adesso avrete il 30% di possibilità di spawnare Più a destra o più a sinistra Insomma cagate eh Però è importante che ci sono meno band in game E non ci sono più le armi comuni Hanno di nuovo tolto il super fortatile Cioè ragazzi ma di cosa stiamo parlando Lo mettono, lo tolgono, lo tolgono, lo mettono, lo mettono, lo tolgono E hanno aumentato invece la probabilità di trovare un fortatile normale Cioè in pratica se prima dovevate trovare un super fortatile Adesso invece trovate un fortatile Perché hanno aumentato i fortatile in game Ma hanno tolto di nuovo il super fortatile Bravi Ma decidetevi o dentro o fuori Almeno sappiamo se possiamo usare o meno il meme Benvenuto tra noi per il super fortatile Hanno risolto il bug del missile guidato Che faceva auto killare i player Perché sparava nella direzione sbagliata Hanno risolto il glitch Che dava l'invincibilità A chi utilizzava il rampino Con l'approvvigionamento Chi non lo conosce mi spiace Però si poteva ottenere l'invincibilità in quella maniera E poi altri bug come visivi Cioè nel senso se tentavi di ricaricare E sparare con la doppietta Insomma si stoppava l'animazione Adesso non si stoppa più Quindi cagate eh Cioè cagate visive Cagate per chi gioca epico Però davvero nessuno più gioca epico Perché non si vede niente epico Cosa importante per chi gioca da console Adesso si potrà modulare ancora di più La sensibilità del game Adesso si potrà andare molto più veloce Sia a costruire Sia a muoversi E oltretutto potrete Cambiare più nel dettaglio I comandi della costruzione Quindi adesso non sono solamente il piazza Ma potete cambiare davvero Qualsiasi cosa E poi se tenete premuto il tasto E cambiate la costruzione Piazza direttamente Senza dover ripremere il tasto piazza Spero di essermi spiegato bene Forse Vabbè tanto nel caso ve lo leggete voi O ve ne accorgerete da voi Andando nelle impostazioni Adesso il gioco su Switch è ancora più fluido Cioè tra un po' Lo rendono così fluido Che davvero il bicchiere d'acqua Può accompagnare solo Acqua Fluido Quanto era brutta questa Mamma mia Mi si è gelato il sangue Festeggiato in grande stile Da oggi Dopo la vittoria reale Sentirete suonare la musica Selezionata nel tuo armaglietto Cagata Perché tutti quanti vogliono la musica di default Perché Quella è la vera vittoria reale Cioè se mi cambi musica Per me non è più vittoria reale Hanno finalmente rimosso L'effetto Doppler Dal deltaplano Quindi non sarà più fastidioso Sentire i giocatori Che arrivano con il deltaplano Tanto si sentirà ugualmente Anche senza l'effetto Doppler Poi hanno aggiunto Un loop in volo Datelettoio insomma Cagate per dirvi Che adesso sentirete meglio Da dove arrivano le granate Del lanciagranate Che prima Cioè non si capiva Cioè tu sentivi esplodere il mondo Ma non capivi da dove cacchio Ti arrivavano quelle granate E infine Hanno ridotto un pochettino Il suono Delle esplosioni Delle granate Così davvero Da non farvi esplodere il cervello Quando qualcuno Ha il lanciapatata in mano Hanno migliorato Qualche animazioni Sistema di replay Cose da mobile Insomma Cose che potete anche darvi A vedere Da soli Perché sono solo Miglioramenti Di game Ma non Reali Solamente Grafici O più fluido O non si scalda Più il telefono Cose così Skin viste Novità viste Patch vista Note viste Ragazzi Tutto visto Direi che Potete lasciare un bel Like di supporto Condividere questo video Perché se vi fa piacere Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Se ancora non l'avete fatto E riconosceremo magari In un prossimo video Ciao 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 Ciao